Lo so, ho avuto un po' da fare. A me fa ridere tra l'altro dirlo al passato, no? Ho avuto un po' da fare. No, in realtà sono talmente infottato di lavoro che non so neanche quando lo monterò questo video. Non so neanche se riesco a finire di girarlo. Eh, vabbè, ma anche tu ti lamenti e sarai pieno di lavoro. Chissà quanti soldi che stai facendo. Forse non avete capito. Io non sto facendo soldi. Io sono zio Paperone, ok? Io mi ci tuffo nei soldi, ci faccio il bagno per quanti soldi ho. Ogni tanto mi capita di riemergere giusto per guardare in faccia a te, sia proprio te che stai guardando il video, e dirti che sei povero. Questo ovviamente nella mia magica fantasia. Ricordatevi sempre che lavoro in Italia. Stai dormendo? Ti faccio dormire? No, ho gli occhi chiusi per guardare la mano a te. Però ascoltami, perché tu sei un grande ascoltatore. Beh, guardate. Però devo ammettere che con tutti i soldi immaginari che sto facendo, quest'anno sono andato un sacco di volte al cinema. E quindi perché non farci un video? Oggi voglio farvi una lista dei film d'animazione che ho visto al cinema quest'anno. Sì, solo d'animazione, perché sennò sarebbe un casino. Dal peggiore al migliore. Quindi preparatevi a un video lunghissimo di 15 film d'animazione, dal più basso dei troiai al più alto dei capolavori. E il mio magico modo per augurarvi buon anno. Solo film al cinema? Solo film inediti in Italia? E no, non ho ancora visto Il ragazzo e l'airone. Lo vedrò come tutti i poveracci il primo gennaio appena esce. Ok, sono appena uscito dal cinema a vedere Il ragazzo e l'airone. È una figliata assoluta, una cosa completamente folle, ma il Giovanni del passato non lo sa. Che cosa vuoi? Torni a vedere il video. Come al solito, se l'idea vi piace, mettetevi comodi e cominciamo. E cominciamo dal film d'animazione più brutto di quest'anno. Mi dispiace dire che è un film italiano. Parliamone. Io mi ricordo ancora, ero piccolo, ero all'elementari e la maestra sotto Natale portò tutta la classe a vedere La Freccia Azzurra. Un film d'animazione italiano diretto da Enzo Dalò. Rimasi affascinato da quel film e forse anche inconsciamente. Cominciai a pensare... Quindi si possono fare cartoni animati in Italia. Interessante. Da allora sono passati più di vent'anni. Io sono cresciuto e non sono solo uno spettatore adulto e consapevole, ma anche un collega adulto e consapevole. Lavorando nel mondo dell'animazione italiana si finisce per essere un po' più cinici e un po' più smaliziati. Quindi sì, oggi di fronte a tutti voi ucciderò il bambino che ero. Enzo Dalò è praticamente il Dario Argento dell'animazione italiana. Un regista che ha fatto cose fighissime in passato e poi sempre meno, sempre più giù, fino al disastro. E se Enzo Dalò è Dario Argento, questo film è Dracula 3D, cioè il film più brutto che abbia mai fatto. Intendiamoci, non è soltanto brutto, perché dici vabbè è brutto, non ti è piaciuto. No, professionalmente è proprio inaccettabile portare al cinema una roba del genere. La storia è semplice, siamo in Irlanda. La protagonista è una bambina di nome Mary che sogna di entrare in una scuola di cucina, perché il sogno della sua vita è diventare una grande chef. Per tutto il film la vediamo cucinare una volta e mezzo anche male, non accetta le critiche neanche quelle costruttive, tutto quello che cucinano gli altri è merda, compresa anche sua madre, beh direi che ha tutte le carte in regola per diventare una grande chef. Di quelle cocainomani. Questa bambina è molto legata alla nonna, che la supporta in questo suo sogno, le passa le antiche ricette irlandesi, famosa per la cucina all'Irlanda, e vuole che continui questa antica tradizione, perché queste ricette moderne fanno schifo. Cosa sono queste cose di oggi, come si chiamano queste norme igienico-sanitarie? Che schifo! C'è un film retrogrado, passatista, una merda. Cosa succede? Che a un certo punto questa bambina incontra nella foresta una donna misteriosa, quella che nel titolo del film è Lo Spirito di Mezzanotte, che io vi giuro per tutto il film apparirà sempre e solo di giorno. È tutto così! È tutto stupido! Chi mai sarà questa ragazza? Chi non sarà mai? Tanto noi l'abbiamo già capito tutti. Ah, e comunque la nonna deve morire. Ve la faccio breve, così. Dal punto di vista estetico, Enzo Dalò non si è reso conto di vivere nel 2023. I personaggi sembrano usciti da un videogioco punta e clicca degli anni 90, quelli fatti con Flash. Le animazioni fanno schifo! Non hanno pathos, non hanno recitazione, sono morti, sono dei tronchi inutili. Io non so, non so quali colleghi abbiano lavorato a questo progetto. Non è colpa vostra! Non è colpa vostra, lo sappiamo tutti, ci siamo passati tutti. Lavorare a un progetto brutto è svilente, è mortificante. E per tutti quelli che mi diranno, eh, ma non capisci niente. E quello è lo stile di Enzo Dalò. È così che lui disegna. Ecco, mi dispiace rovinarvi un mito, ma Enzo Dalò non disegna. Non sa disegnare. È un regista, non è un animatore. Se ti pigli Enzo Dalò ti... Sì, ci sto quasi arrivando, Tesoro, non ti preoccupare, tra un po' ci arrivi. E per favore smettiamola di credere che un film d'animazione va bene così solo perché è italiano. Abbiamo fatto cose incredibili anche nell'animazione e basta incorarci a questi vecchi miti. Le uniche scene del film che si saltano sono in tutto quattro. Quattro! Sono quattro sogni fatti dalla protagonista e sono realizzati in animazione tradizionale matita su carta. Sono stupendi. Oh, intendiamoci, eh, non c'entrano un cazzo con il resto del film. Hanno una qualità estetica che non è quella del film, un uso incredibile dei piani sequenza che non è la regia del film, perché se c'è una cosa che fa schifo in questo film è la regia. Enzo Dalò si è dimenticato di fare il regista. E per tutti quelli che mi diranno, eh, ma cosa ti aspetti? È un film per bambini. Ecco, la mia risposta è non portate i bambini a vedere questo film. Se volete approfondiamo nei commenti, ma ci sono delle scene profondamente diseducative. Tra l'altro, in tutto il cinema eravamo in tre. Io, un padre e suo figlio. E questo bambino, per tutto il tempo, una volta ogni tanto, urlava. Ti capisco, fratello. Avrei voluto urlare anch'io. E lo so. Lo so che vivo e lavoro anch'io nel mondo dell'animazione italiana. E probabilmente in questo video ho anche insultato qualcuno che incontrerò di persona. Prima o poi sono un coglione. Però, parliamoci chiaro, io non credo che qualcuno nel mio ambiente di lavoro possa vantarsi di aver fatto questo film. Anche perché dopo averlo visto al cinema, l'ho detto ai miei colleghi. E loro non mi hanno chiesto il film com'è. Mi hanno chiesto... Come stai? Ti giuro, ti faccio vedere i messaggi. È fenomenale questa cosa. Ora, questo film meriterebbe altre... 14 ore di analisi. Però non posso. Non posso perché ho altri 14 film da recensire. E se ci ho messo così tanto a fare il primo, mi sa che siamo un po' nella merda. E da un film italiano, passiamo ad un film con un budget decisamente più ampio. Ruby Gilman... È brutto. E lo so, fa male anche dirlo. Anche perché stiamo parlando della Dreamworks. Lo studio dell'animazione che ci ha regalato delle perle incredibili. Con Fu Panda, Dragon Trainer, La strada per il dorato. E ricordatevi sempre tutti che Shrek è amore, Shrek è vita. Lo stesso gruppo di pazzi sclerati che l'anno scorso, non mille anni fa, ok? L'anno scorso, ci ha regalato perle incredibili come Troppo Cattivi e soprattutto Il Gatto con gli Stivali 2. Ma la Dreamworks ha questo problemino. È una casa molto discontinua. Se la prima volta prova a fare qualcosa e le viene anche bene, la seconda volta non è che la rifà da capo, no. Fa una cosa totalmente diversa, perché le piace sperimentare. Da un certo punto di vista è fantastico, ma dall'altro non sai mai se il film successivo sarà bello come il precedente. La trama di Ruby Gilman. Allora, una ragazzina, un po' nerd, un po' introversa, un po' sfigatina, in realtà è un Kraken. Un mostro marino incredibile, figlia di una famiglia di Kraken che vive sulla Terra in incognito, nascondendosi tra gli umani. Con l'arrivo della maturità, questa ragazzina acquisisce nuovi poteri da Kraken e quindi dovrà abbandonare la Terra, abbracciare la sua natura e proteggere l'intero oceano dalle sirene. Perché qui c'è una sorta di inversione, no? Perché il Kraken, che è un mostro terrificante, è buono, la sirena, che invece è carina e coccolosa, è cattiva. Hanno invertito... E su questa piccola, fragilissima idea si basa l'intera storia del film. Ora, quali sono i problemi di Ruby Gilman? Innanzitutto, se avete visto il trailer del film, avete visto il film. Tutto. Cioè, a parte il finale, ma come pensate che finisca un film del genere? Il fatto è che questo film, dopo aver giocato sull'inversione buono-cattivo, sirena, Kraken... Non sa più dove andare a parare. La chiamo inversione per delicatezza, ma il film non inverte proprio un cazzo. Cioè, ci sono comunque buoni da una parte e cattivi dall'altra. Il fatto che siano invertiti non è che mi cambi un granché. La sirena cattiva del film è cattiva perché è una sirena. Ora, so che è brutto dirlo, ma il film è implicitamente razzista. Senza volerlo, certo. Però lo è. Oh, intendiamoci. La protagonista cerca anche un po' di invertire questa logica, cerca anche di fare amicizia con la sirena, di capire il suo punto di vista, si instaura anche un bel rapporto. Spoiler. È un'inculata. La sirena la sta solo prendendo per il culo. Ora lo so che la Dreamworks ha voglia ogni tanto di inserire questi elementi un po' cattivelli, però il film non è cattivo, è solo stronzo. Poi che cos'altro c'è? Un accenno di storia d'amore, un po' di adolescenza, conflitto generazionale, tutto esplorato in maniera molto, molto banale. Peggio che in Red, per farvi capire. Peggio. A livello grafico, il film prometteva anche bene, perché il design dei Kraken era particolare, era carino, molto gommoso. Questo, almeno finché, si rimane sulla terraferma. Poi quando si va in mare, i Kraken diventano giganteschi, pieni di lucine, e tutto diventa terribilmente kitsch. Quest'anno la Dreamworks ha fatto uscire due film, in realtà. Il secondo è Trolls 3, che non ho visto, perché non ho visto gli altri due. Magari non capisco la trama. Ma soprattutto, l'anno prossimo uscirà Kung Fu Panda 4. E io non vedo l'ora di vederlo, perché il discorso di prima vale anche al contrario. Il fatto che questo film sia brutto, non vuol dire affatto che anche il prossimo lo sarà. La Disney, lo studio d'animazione più importante del mondo. Da sempre pronto a esaudire i vostri desideri. Capito, no? Wish, desideri. No, vabbè. Ma perché parlo di desideri? Beh, non so se vi ricordate, ma circa un annetto fa, la Disney ha fatto una dichiarazione molto molto importante. Noi smetteremo di fare film con un cattivo. Ci saranno degli antagonisti, degli avversari, ma non saranno cattivi come in passato. Non saranno proprio stronzi, crudeli. Noi, quel tipo di cinema, abbiamo smesso di farlo per sempre. Fantastico. Questa era una dichiarazione solida, importante. una presa di posizione incontrovertibile. Poi, dopo aver visto fuori dalla finestra la folla incazzata nera con torce e forconi, questa idea incontrovertibile è morta, così com'è nata. Ed ecco qui, il nuovo classico Disney, realizzato per i cento anni dell'azienda. E c'è un cattivo, un cattivo vero, di quelli proprio cattivi, crudeli, stronzi. È incredibile. Peccato che la sua cattiveria non abbia un cazzo senso. Parliamo della trama, tanto si capisce tutto anche dal trailer. Esiste un regno, un regno fatato, dove tutti vivono felici e contenti. Il re di questo regno è un mago potentissimo, in grado di esaudire tutti i desideri del mondo. Come funziona? Allora, tu, suddito del regno, quando ridi alla maggiore età, gli affidi il tuo desiderio più grande. Tu te lo dimentichi, perché lo prende lui, e lui lo custodisce e quando possibile lo realizza grazie alla magia. La protagonista è una ragazza del popolo, una come tante, che ha come sogno quello di diventare apprendista del re. Riesce in qualche modo ad entrare nelle sue grazie, riesce addirittura a vedere i desideri della gente e, udite, udite, scopre che tantissimi di quei desideri non verranno mai realizzati. Perché? Perché alcuni sono troppo strani, troppo generici, alcuni addirittura potrebbero mettere a rischio la sicurezza del regno e quindi meglio evitare. Ora, non so voi, ma quando ho visto il trailer la mia prima reazione è stata grazie al cazzo. Ma è ovvio che non li esaudisce tutti, un potere del genere va ragionato, non puoi esaudire i desideri a cazzo, succede un casino. Che tra l'altro questo non è un potere che il re ha dalla nascita, no, lui è nato che era un bambino normale. La sua famiglia è stata sterminata da dei banditi che hanno distrutto anche il suo villaggio e lui per anni ha studiato la magia al solo scopo di diventare un mago e creare da zero un regno perfetto dove la tragedia che è successa a lui non potesse più succedere a nessun altro. Questo è il cattivo del film. Disney, il prossimo cattivo chi è? Gino Strada? Poi per carità è comunque un uomo politico quindi calcolatore, manipolatore, attento alle apparenze, estremamente vanitoso, d'accordo, ma da qui ad essere stronzo ce ne passa. E invece no, diventa stronzo a metà film con un espediente narrativo veramente di merda e alla fine quando perde, perché perde, cioè un cattivo in un film Disney ovviamente perde, fa una fine terrificante che non si merita. Siete stronzi, questo è bullismo. Ray Magnifico è senza dubbio il personaggio migliore del film. È simpatico, ha carisma, fa morire da ridere, in certi momenti sembra addirittura una sorta di ade meno riuscito, ovviamente. Oggi è un fatto che è un nerd assoluto, fa continue citazioni a vecchi cattivi Disney, sì, lo so che è una parculata, però a me ha fatto ridere. Tutto quello che c'è di positivo nel film finisce con il cattivo, perché la protagonista è inutile, intercambiabile con mille altre protagoniste viste finora. I suoi amici, sono tutto 5 o 6, sono il nulla, ma il nulla totale. Se io ne prendo uno, non importa, chi uno qualsiasi, te lo metto davanti, gli faccio saltare la testa a fucilate, proprio sangue e cervello dappertutto, tu andresti avanti che è una meraviglia e non te ne frega un cazzo. Poi la capra, santi Dio la capra, c'è una capra che parla, dice delle puttanate allucinanti la odi per tutto il tempo. Qualcuno potrebbe dire che è colpa del doppiaggio italiano e può essere, perché santi Dio ama Deus, davvero? Ma non credo sia colpa del doppiaggio, secondo me fa cagare anche l'inglese. Vogliamo parlare delle canzoni? Molti le hanno anche difese, io non sono tra questi molti. Cioè, non è che sono brutte, è che sono proprio inserite a cazzo. La canzone delle stelle, tanto per fare un esempio, quella che poi torna anche nel finale, è una cagata allucinante, è proprio l'idea del potere, dell'amore, dell'amicizia che ci salva dal cattivo, ma andate a cagare. La canzone del cattivo è anche carina, se non fosse per il fatto che nella stessa stanza c'è anche la protagonista che lo guarda come per dire ok, perché questo tizio sta cantando? Ma soprattutto la scena in cui il gruppo di imbecilli protagonisti decide di combattere contro il re. E niente, cioè, non è che si preparano alla battaglia, si arano, no, fanno una canzone in cui dicono di aver deciso di combattere contro il re e non fanno nient'altro, cioè, sono lì che gironzono per la stanza, un po' ballicchiano, un po' suonano le pentole con il... Disney, la potevi togliere quella scena di merda? Concludiamo parlando dell'aspetto grafico e mi limiterò a dire che non è niente di che. Quest'anno ci sono stati dei film che mi hanno letteralmente buttato gli occhi fuori dalle orbite. Questo film non sorprende, non incanta, è semplicemente un film d'animazione in CGI normalissimo con un filtro disegno appiccicato sopra. Sì, lo so che non è davvero così ma è quello che sembra. Ma la cosa che fa veramente male sono i personaggi. Tanto più ci si allontana dai protagonisti, si va verso le comparse e tanto più il character design peggiora e con esso anche le animazioni. Gli animaletti del bosco che cantano, no, il coniglietti il cervo l'orso fanno schifo ma brutti sembrano venuti fuori da un brutto cartone di Boeing. Se posso dire qualcosa di positivo sul film è che mi aspettavo peggio cioè, intendiamoci, ho visto un film fallito. Un film che ci prova e fallisce. Il mio timore è che non ci provasse nemmeno quindi in qualche modo avete superato le mie aspettative. Però davvero siete la Disney. Da voi mi aspetto molto di più. questa la facciamo veloce e più che altro risponderò a tutti quelli che mi scriveranno eh, ma come ti permetti? Hai messo Super Mario così in basso? Dove dovrei metterlo? Scusate se ho preferito dare la precedenza a dei film per cui udite udite me ne fregava qualcosa della trama? o addirittura dei film un'idea folle che avessero una trama? Perché qui non c'è niente ragazzi la storia qual è? Due fratelli italiani idraulici finiscono in un tubo si trovano in un regno fatato devono salvare la principessa sì, lo so è Super Mario si poteva fare meglio ma non così tanto meglio se non altro si poteva scrivere meglio perché con lo straccio di storia che ha si permette anche il lusso di avere dei buchi di trama poi per carità è il film d'animazione che ha incassato di più nella storia quindi avete vinto voi? cosa avete vinto? boh non lo so beh io passerei a film leggermente più interessanti quanti film grossi quest'anno quanti film grossi tutti sul fondo della classifica e adesso tocca alla Pixar uno studio che ha fatto la storia del mondo dell'animazione che la nostra generazione ha visto nascere e che da qualche anno a questa parte semplicemente non è più Pixar e lo so ci ho messo anche io un po' di tempo per capirlo personalmente Luca l'ho anche apprezzato Red l'ho tollerato con l'ATR volevo mandare tutti a fanculo se vogliamo essere realistici ormai la Pixar non esiste più esiste la Disney con due grandi compartimenti di animazione uno con le canzoni e un altro quasi senza canzoni ora intendiamoci Elemental non è un brutto film solo che non è Pixar la storia è quella che conosciamo tutti c'è una città popolata da persone d'acqua di aria di terra e di fuoco e un ragazzo di acqua si innamora di una ragazza di fuoco basta storia classica dinamica un po' alla zootropolis ecco quello che mi è piaciuto però è che le differenze tra i due non sono soltanto fisiche ma anche culturali il ragazzo d'acqua è il tipico ragazzo americano di buona famiglia quelli che credono fortemente nel sogno americano che tutti i sogni si possono realizzare con l'impegno stai puttanati da americani invece la ragazza viene da un contesto molto diverso più tradizionalista più esotico chiaramente ispirato al mondo arabo i problemi del film sono tre principalmente il primo è che il razzismo verso il popolo del fuoco che è l'ultimo arrivato è il più pericoloso si vede pochissimo cioè si vede solo nei flashback come se fosse una cosa del passato ormai non c'è più il secondo problema è che la difficoltà dei due personaggi di toccarsi perché sono acqua e fuoco non è una difficoltà cioè si risolve in dieci secondi e il terzo problema il più grave di tutti è che la sceneggiatura è scritta in un modo veramente sciatto lo ha fatto notare anche Dario Moccia l'evento traino della storia sono loro due che devono riparare una diga perché? cioè perché loro due sono un impiegato e una commessa questa città non ce l'ha degli architetti degli ingegneri? certo devi un po' fermarti a pensarci a queste cose se non ci pensi il film te lo puoi anche godere e io diciamo che me lo sono anche goduto però parliamoci chiaro l'era della Pixar è ufficialmente finita il 2023 non è l'anno di Elemental nemmeno per scherzo collocare questo film in una classifica è davvero complicato non perché sia complicato il film ma più che altro perché è molto lontano dal mio target è un prescolare un film per bambini piccoli la trama è ovviamente semplicissima in un castello vive una famiglia di topi e in particolare la piccola Yoku con il suo ukulele che canta e che balla la nonna di Yoku sta molto male in sostanza sta morendo e la protagonista per salvarla dovrà uscire fuori dal castello e andare a recuperare il fiore dell'Himalaya ora perché un 32enne come me è andato a vedere questo film? che problemi ho non ne ho idea ma in sostanza il film non è affatto male più che altro perché è un film che vuole parlare ai bambini vuole raccontare una storia non vuole piacere per forza non è il classico giocattolino che scuoti davanti alla faccia del bambino per rincoglionirlo e abituarlo all'intrattenimento a corto raggio dei social network è una fiaba niente di più e si parla anche di morte in questa fiaba argomento niente affatto scontato tra l'altro fa ridere perché per i topi la morte che ti porta sotto terra è una talpa ha senso non rompe il cazzo l'aspetto grafico è molto particolare per nulla scontato anche se devo ammettere che gli animali disegnati peggio in una storia che parla di topi sono i topi cioè fanno schifo sembrano degli scroti col naso a triangolo che immagine orribile che ho creato nella mia mente e poi ovviamente c'è la protagonista che ogni volta che incontra un problema ogni volta che ha una difficoltà la sua unica soluzione è prendere l'ukulele e cantare una canzone che due coglioni e intendiamoci le canzoni sono anche carine questo film l'ho visto in una sala cinematografica piena di bambini e vi assicuro è un'esperienza totalmente anarchica c'è quello che fa casino quello che parla quello che comincia a girare tutto intorno intorno al tavolo quello che arriva a metà film e se ne va poi rientra un casino allucinante ah e in caso ve lo stesse chiedendo no non mi danno fastidio i bambini sapete cos'è che mi dà fastidio al cinema? gli adulti con quel loro cazzo di telefono costantemente in mano che ti asceca nel buio della sala perché proprio non riescono a stare senza usare lo smartphone per il tempo utile della visione del film io vi giuro che prima o poi li ammazzo tutti tutti praticamente è un misto tra i cruz e alla ricerca di nemo ma con le papere è carino divertente basta che altro vuoi? fine ah eccolo il solito Giovanni che in fondo ci mette tutti i film importanti i film di Hollywood e sopra ci mette quelli impegnati quelli autoriali perché vuole fare il radical chic forse non lo so comunque mano d'opera signori questo è lo sbagliatissimo titolo in italiano in francese si chiama così che letteralmente significa non ho idea di come cazzo si pronunci questa metta no sto scherzando in realtà significa vietato l'ingresso ai cani e agli italiani il regista Alain Houghetto è un regista francese di origini italiane e questo film parla della storia della sua famiglia punto il bello è come ne parla è un film in stop motion e vediamo il regista proprio le sue mani che creano il mondo del racconto costruiscono le case modellano i personaggi con la plastilina e ci interagiscono come se fossero davvero sua madre suo padre i suoi nonni e questi personaggi raccontano la loro storia la vita in montagna la fame la miseria la speranza di una vita migliore in Francia dall'altra parte delle Alpi e una volta lì finalmente un lavoro una vita migliore ma anche il razzismo l'esperienza di essere trattati dai francesi come poco più che animali da Soma e poi ovviamente l'arrivo del fascismo che pretendeva dal suo popolo un patriottismo incorruttibile un legame indissolubile con l'Italia da parte di persone che se fosse stato solo per l'Italia sarebbero morte di fame e quindi il trasferimento definitivo in Francia il cambio di nazionalità la guerra i bombardamenti e tutto il resto questo è un film che vi straconsiglio è delicato è incredibilmente personale perché allora è così in basso nella classifica per tutto quello che avrebbe potuto essere ma non è stato spiego meglio il film dura poco più di un'ora probabilmente per motivi di budget e quando arrivi alla fine ti dispiace tantissimo fai no come è possibile è già finito a un certo punto il film diventa anche un po' telegrafico una sorta di elenco di persone che una dopo l'altra muoiono in guerra con una mezz'oretta in più il film sarebbe stato perfetto intendiamoci non è colpa del regista la stop motion è un'arte molto costosa e il budget del film non penso fosse particolarmente grande ecco invece di investire nelle puttanate di Hollywood possiamo dare un po' più di soldi ai registi bravi magari anche giovani che ti rinnovano davvero il mondo dell'animazione sì lo so che ha l'anughetto a 70 anni ma l'importante è essere giovani dentro ok signore e signori cowabonga in quanto figlio illegittimo degli anni 90 le tartarughe ninja sono state un pezzo fondamentale della mia infanzia sì lo so siamo cresciuti molto male un'idea tanto imbecille quanto geniale come delle tartarughe ninja mutanti che mangiano la pizza pretendeva al cinema un film d'animazione eppure i film delle tartarughe ninja sono quasi tutti dei live action dai pupazzoni degli anni 90 alle cagate di Michael Bay c'è stato un film d'animazione un po' di anni fa ma preferiscono ricordarlo troppo serio troppo pomposo una trama scritta anche piuttosto male e una grafica degna della playstation 2 vabbè lo stesso regista di Dylan Dog e poi è uscito il trailer di questo film bagnando inesorabilmente le nostre mutandine da scolarette timide anche scoprendo che lo sceneggiatore sarebbe stato il mitico Seth Rogen e ve lo dico subito il nostro affezionatissimo non ci ha deluso per nulla la storia è una sorta di reboot i nostri mitici Leonardo Donatello Raffaello e Michelangelo sono delle tartarughe ninja piuttosto giovani ancora molto meno ninja e molto più mutanti desiderosi di essere accettati dalla società stavolta la storia delle origini è un po' diversa non abbiamo più il classico ragazzino che inciampa per strada con la vaschetta delle tartarughe no è una storia un po' più elaborata molto meno casuale e soprattutto che lega a doppio filo il destino dei protagonisti con quello del cattivo e per ora la trama è banale è stupida silenzio stiamo parlando delle tartarughe ninja per Diana abbandonate via le placide acque della cazzata che non ha alcuna intenzione di prendersi sul serio la storia funziona perché funzionano i personaggi i protagonisti i comprimari ma soprattutto il cattivo Superfly è un cattivo fantastico simpatico molto simile ai protagonisti e con ottime ragioni per avercela col mondo l'unica differenza è che si spinge un po' troppo oltre alimentato dal suo odio ma parliamo un po' della ciccia parliamo dello stile grafico e io ve lo dico se non avete visto questo film al cinema avete fatto l'errore dell'anno io ero lì davanti al grande schermo e impazzito per ogni minimo dettaglio tutte quelle pennellate sporche per rendere l'effetto delle luci delle texture del fumo delle esplosioni io per buoni dieci minuti quasi non ho seguito la trama tanto ero avido di dettagli sullo schermo vogliamo parlare del carattere design i mutanti sono uno più volutamente brutto dell'altro sono storti sgraziati in natura niente dovrebbe avere quella forma e quindi è giusto che ce l'abbiano loro e gli umani non sono da meno non ce n'è uno bello uno proporzionato è un po' come se loro disprezzassero i mutanti perché sono diversi e non riuscissero a vedere dentro di loro la loro stessa diversità sto sovranalizzando vero? e quindi sì April con il suo nuovo character design funziona è perfetta per il film lo so che molti l'hanno criticata avrete meno materiale su cui farvi le pipette ma pazienza paradossalmente i personaggi meno strani più armoniosi sono proprio i protagonisti io avrei osato un pochino di più anche su di loro cos'è che non funziona del film? beh innanzitutto qualche passaggio di sceneggiatura ci sono dei voltafaccia un po' troppo semplificati senza fare spoiler e poi ci sono delle sottotrame lasciate volutamente in sospeso è chiaro che questo film vuole essere il primo di una saga ah rimanete dopo i titoli di coda perché c'è un colpo di scena no in realtà è abbastanza prevedibile però vi garantisco è una gran figata io credo che anche i peggiori detrattori di Makoto Shinkai sotto sotto hanno apprezzato Suzume ma perché direte voi forse il buon Makoto ha trovato una storia innovativa e appassionante per il suo nuovo film no no Makoto Shinkai nella sua vita ha scritto una trama sola e con quella ci ha fatto tutti i film un ragazzo incontra una ragazza due adolescenti vivono avventure in un mondo un po' fantasy e un po' no si innamorano basta cioè gli piaceva sta storia e l'ha portata avanti per tutta la vita il fatto è che quel maledetto farà anche storie sceme ma è bravissimo a raccontarle e questo Suzume è forse il suo film più maturo o comunque quello più carico di idee sia narrative che visive questa idea delle porte che bloccano il passaggio tra questo mondo e quell'altro un verme gigantesco che scuote il Giappone con i suoi terremoti uno spirito intrappolato in un sigillo per bloccare una terribile maledizione tutte cose che i giapponesi fanno venire i capezzorini duri e poi c'è un tizio trasformato in una sedia lo so che sembra stupido ma fidatevi è interessante la regia è inattaccabile questo film è una gioia per gli occhi su questo Makoto Shinkai è una garanzia c'è poco da fare non c'è molto altro da dire anche perché questo film lo hanno anche candidato agli Oscar non so per quale assurda congiunzione astrale ma magari lo rimandano al cinema così ve lo guardate sì lo so che le storie d'amore fanno sempre un po' venire il mascarpone alle palle ma non è questo il caso fidatevi quanto è poetico vedere tutti questi film multimilionari superati di diverse lunghezze da un'opera così piccola piccola come il protagonista d'altra parte proprio come mano d'opera Marcel Deschel è un film in tecnica mista un po' in live action e un po' in stop motion Dean è un giovane regista di documentari si è appena lasciato con sua moglie e ha preso una casa su airbnb così da stare un po' da solo a leccarsi le ferite il fatto è che non sarà da solo perché in quella casa incontrerà Marcel un pupazzetto fatto con una conchiglia due occhietti di plastica e due scarpine da ginnastica vivo che vive in quella casa da chissà quanto tempo insieme a sua nonna un'altra conchiglia naturalmente il film comincia in media res Dean ha già conosciuto Marcel e decide di renderlo protagonista di un documentario fatto da vari video che finiranno su youtube Marcel si apre davanti alla telecamera racconta un po' come ha fatto un pupazzetto così piccolo a sopravvivere in quella grande casa tutti i complessi meccanismi di specchi e leve che si è inventato per spostarsi per aprire le tapparelle per procurarsi da mangiare e soprattutto racconta che un tempo aveva una famiglia e non ha idea di dove sia finita grazie a questi video Marcel diventa in pochissimo tempo una celebrità del web e questo sconvolge la sua vita di per sé così tranquilla e chissà magari grazie a un passaparola su internet riusciranno finalmente a trovare la sua famiglia Marcel è adorabile tenero divertente geniale a suo modo non puoi non volergli bene è bellissimo anche il rapporto con Dean ma soprattutto con la nonna che dopo un grave incidente non ci sta più tanto con la testa il tema della vecchiaia e della demenza senile è trattato con una delicatezza davvero struggente questo film è stato candidato agli Oscar dell'anno scorso sì in Italia è arrivato un po' tardino però adesso c'è anche in italiano quindi vi prego non so come farete ma recuperatelo ad ogni costo io vi garantisco che tra qualche anno il film di Super Mario ve lo sarete completamente dimenticati ma questo no questo ve lo ricorderete il magico mondo degli amanti dell'animazione si divide di fatto in due grandi categorie quelli che hanno visto e amato il primo Ernest e Celestine e quelli che hanno la mamma puttana quando ho saputo che avrebbero fatto un sequel mi sono parecchio gasato certo non che servisse la storia si concludeva alla perfezione ma vabbè consideriamolo un piccolo approfondimento ributtiamoci tutti insieme nel mondo di orsi e topolini creato dal mitico Daniel Pennac cosa succede? allora Ernest e Celestine convivono ormai da parecchio tempo come al solito non hanno due soldi da sbattere l'uno contro l'altro e per sbaglio Celestine rompe il violino di Ernest però sorella c'è un po' di attenzione Celestine vorrebbe farsi perdonare ma l'unico liutaio in grado di riparare quel violino vive il nostro Gallia cioè la patria di Ernest e quindi via tutti alla volta del nostro Gallia il paese dove tutto è così perché così è sempre stato e così sempre sarà voteranno la Meloni che cazzo ne so e quando arrivano scoprono che nel paese tutta la musica è stata bandita per legge nessun tipo di concerto con più di una nota infatti appena arrivano c'è un concerto di pianoforte in mezzo alla piazza con tutti i tasti tolti tranne uno lievemente surreale pare che il motivo di questa legge sia sì proprio la fuga di Ernest parecchi anni prima e quindi ancora una volta Ernest e Celestino dovranno scardinare i pregiudizi di un popolo e in particolare di determinate persone con cui Ernest dovrà confrontarsi dopo tanti anni e poi ovviamente c'è tutta una resistenza segreta che vuole riportare la musica nel paese una sorta di vendicatore che suona il flauto in mezzo alla piazza imbarba i gendarmi una specie di zorro col flauto al posto della spada scene di inseguimento incredibili e una colonna sonora da far venire i breviti non sto scherzando mi è rimasta in testa per giorni e ancora oggi la riascolto ora io lo so che quest'anno ci sono stati film molto più innovativi sia nella tecnica che nella storia questo film non è di certo il futuro dell'animazione ma è un'opera che non invecchierà mai animazioni spettacolari una palette cromatica degna di un dipinto e personaggi uno più bello dell'altro e i difetti di questo film allora per me non ce ne sono ok ma l'ho visto in compagnia del caro vecchio Andrea bravissimo ragazzo per carità aiuta le vecchiette ad attraversare la strada ma è anche molto più cacacazzi di me quindi questi sono difetti che ha notato lui non è ben chiaro quale sia il target di questo film o meglio il target è chiaro è per bambini ma non per bambini del 2023 ha un'estetica e un ritmo a cui i bambini di oggi non sono più abituati ma poi che cazzo di difetto è sarà un problema dei bambini mica del film però vabbè diciamo che non intercetta la generazione ma io ripeto questo è un film che non invecchia quindi intercetterà una generazione futura che ne sai ed eccoci qui signori siamo giunti al podio e ve lo dico subito è un podio veramente strano sapete che cos'è la cell shading? è una tecnica tutta giapponese di prendere modelli 3D e farli sembrare 2D o intendiamoci è molto utile soprattutto se devi fare animazioni complesse e movimenti di camera strani senza sminchiare completamente il personaggio è una figata se funzionasse ora ragazzi mi dispiace a me la cell shading non ha mai convinto ogni volta è un pugno in un occhio poi per carità c'è quella fatta bene quella fatta peggio alcune fanno proprio cacare ma in ogni caso trovo sempre meglio l'animazione tradizionale poi ho visto questo film ed è cambiato tutto ora so di deludervi ma purtroppo io non conoscevo il manga e l'anime di slam dunk mi sono approcciato a questo film da completo neofita e so che moltissimi come me hanno evitato questo film proprio per paura di non capirci niente ecco vi rassicuro non c'è questo pericolo non hanno fatto il classico riassuntone raffazzonato no è un film che si sofferma sull'ultima partita e poi attraverso dei flashback ti fanno capire i vari personaggi e in particolare il protagonista e il suo rapporto con il fratello da quel punto di vista hanno fatto un film perfetto l'appassionato tornerà ad appassionarsi e il neofita come me capirà tutto perfettamente anche se avrà voglia di recuperare la storia per intero ma non è questo l'unico motivo per cui slam dunk arriva sul podio la regia di questo film è sensazionale soprattutto nella partita montaggio e movimenti di camera sono perfetti al limite della follia e man mano che la partita va avanti l'adrenalina sale i colpi di scena si susseguono la fatica si fa sentire sempre di più e schizza sudore da ogni parte ed è sudore vero ne senti l'odore si lo so fa schifo ma è formidabile e mi tocca dirlo soltanto con la cell shading si potevano ottenere movimenti di camera del genere ma stavolta è perfetta non mi è mai neanche per un istante venuto da dire sì però era meglio in animazione tradizionale no stavolta il computer non toglie un atomo alla qualità dell'animazione giapponese detto questo saliamo al secondo gradino del podio con un film che diciamocelo vi aspettavate tutti dall'inizio del video vi ricordate cosa ho detto riguardo alla Pixar no? questo non è l'anno di Elemental eh però è l'anno di Spider-Man decisamente non so se vi ricordate quando è uscito Spider-Man Into The Spider-Verse dopo un sacco di cinecomics di merda e dopo lo Spider-Man di merda della Marvel non me ne frega un cazzo se vi piace quel film fu una vera e propria avventata di aria fresca una trama semplice un multiverso che vive di immagini e non di spiegoni infiniti personaggi uno più bello dell'altro e un cattivo decisamente umano tutto questo con uno stile grafico incredibile un 3D misto al disegno che ti proiettava direttamente in un fumetto animato non potevamo neanche immaginare che quello era solo l'antipasto Spider-Man Across The Spider-Verse è un'opera d'arte non c'è molto altro da dire il fatto che sia un film su Spider-Man rende tutto ancora più incredibile non solo perché Spider-Man è uno dei miei supereroi preferiti ma anche perché è assurdo che una major come la Sony dia così tanta libertà artistica a un prodotto tanto commerciale su questo ne parliamo dopo ok? e voi direte sì sarà bello a livello estetico ma scommetto che la trama la trama è fantastica i personaggi sono uno più bello dell'altro sia quelli nuovi che quelli vecchi che ritroviamo cresciuti e maturati e sono stupendi anche i rapporti tra i personaggi le amicizie gli amori e soprattutto il rapporto con i genitori per degli adolescenti che stanno crescendo in modi inaspettati tra incomprensioni e affetto incondizionato i nuovi Spider-Man che vengono introdotti nel film saranno un centinaio almeno sono quasi tutti di contorno ma quei pochi che vengono esplorati gli ami in pochissimi istanti ah e poi c'è lo Spider-Man Punk che fa concerti e odia i fascisti più dieci punti al film ma ovviamente il vero traino della storia sono gli antagonisti o presunti tali abbiamo Miguel Oana lo Spider-Man del futuro l'unico Spider-Man che non fa ridere questa cosa gliela fanno notare tutti addirittura gli chiedono ma sei sicuro di essere Spider-Man ovviamente non è un cattivo ma il suo senso di giustizia è diventato talmente ampio talmente impersonale da essere quasi disumano il dilemma morale che calerà addosso al protagonista sarà il vero fulcro del film e poi abbiamo il vero cattivo dopo Octopus dopo il Goblin dopo Venom signore e signori abbiamo la macchia e chiunque abbia letto i fumetti si sta mettendo a ridere perché è un coglione e anche qui è un coglione all'inizio però dategli tempo vi farà venire le mutandine croccantelle tornando all'aspetto estetico questo film è incredibile dico davvero ogni singolo universo ha il suo stile grafico specifico la cura dei dettagli è maniacale e l'effetto complessivo è un film lisergico un'opera d'arte che non dimenticherete mai più è talmente bello da essere anomalo cerco di spiegarmi Hollywood è in una crisi nera la voglia di denaro sta calpestando ogni forma d'arte e il risultato sono un sacco di blockbuster brutti in culo che puntualmente fanno anche flop è quasi impossibile concepire un film d'animazione così commerciale con una tale libertà artistica cercate di capirmi io sono un animatore questo è è un sogno proibito è come se mi avessero detto hai tutto il budget del mondo e puoi fare quel cazzo che vuoi cosa fai? questo e quando sono uscito dalla sala io non ho solo pensato che bel film io ho proprio pensato abbiamo vinto cioè per una volta abbiamo vinto noi in genuo in genuo coglione due mesi sono passati due mesi dall'uscita del film e sono venuti fuori tutte le magagne possibili immaginabili a quanto pare lavorare a quel film è stato un incubo per gli animatori con un budget limitatissimo e dei tempi completamente assurdi non so esattamente cosa sia successo secondo me il regista è riuscito ad ottenere tutte le libertà artistiche dalla produzione e poi la produzione si è vendicata tagliando budget e tempi perché non sia mai che la Sony rimanga senza soldi per fare l'ennesimo film di Venom ma non sia mai ma vaffanculo questo per me è il difetto più grave del film il secondo naturalmente è che non finisce è una prima parte e dopo lo show però a Hollywood non sappiamo quando avremo la seconda hanno fatto benissimo a scioperare naturalmente e se questo Spider-Man è al secondo posto nella classifica ma chi avrà messo al primo? l'ho visto proiettato a un festival quindi tecnicamente l'ho visto al cinema ora mi rendo conto che in questa classifica ci sono film con una regia più interessante con un comparto grafico meglio curato magari film che rimarranno per tanto tempo nella storia del cinema e bla 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 ma porca miseria dovete capire che io sono un po' stronzo a me piacciono i film cattivi quelli che fanno piangere i bambini e sconvolgono i benpensanti ho conosciuto quel pazzo psicopatico di Vasquez grazie al suo precedente film Psiconautas The Forgotten Children ha la malsana abitudine di creare protagonisti carini e coccolosi che affrontano problemi come depressione droga suicidi omicidio autolesionismo fanatismo religioso sì lo so che state tutti ridendo perché state pensando a una roba tipo Happy 3 Friends no questa è una cosa seria un vero pugno allo stomaco e questo film non ha minimamente deluso le mie aspettative rispetto al film precedente stavolta Vasquez ci propone una storia un po' più classica meno frammentata ora ci sarebbe talmente tanto da dire su questo film che la mia tentazione è non dirvi proprio un cazzo di niente anche perché gli altri film sono arrivati al cinema hanno avuto la distribuzione chi più chi meno questo no e io non voglio spoilerarvi nulla dovete arrivarci vergini alla visione di questo film così come ci sono arrivato io ho visto la locandina sapevo che era di Vasquez lo dovevo vedere per forza dove si può recuperare non ne ho idea però vi prego fatelo è un'opera d'arte un'opera tanto folle quanto tragica tanto surreale quanto terrificante il prodotto finito è un film che vi strapperà il cuore dal petto e se lo mangerà crudo questo video non poteva concludersi con nessun altro film e a parte qualche eccezione quest'anno abbiamo visto una vera e propria caduta dei giganti grandi produzioni che crollano e nuovi talenti che riemergono Hollywood può decidere di stare al passo o rimanere indietro anche se secondo me non faranno nessuna delle due cose secondo me continueranno a produrre merda e a penalizzare i prodotti buoni con una pessima distribuzione così per convincerci che non ci sono alternative ma sorpresa le alternative ci sono e aspetta a voi trovarle siate migliori del pubblico che pensano che voi siate e adesso tocca a voi nei commenti scrivetemi un po' che film avete visto qual è la vostra classifica e soprattutto cosa vi aspettate dall'anno prossimo io personalmente aspetto il ragazzo e l'airone che vedrò il primo gennaio cascasse l'universo con Fu Panda 4 naturalmente perché anche le cazzate ci piacciono e poi un altro film di cui non posso ancora parlare ma magari un'altra volta ciao ciao ciao